No, non lo vuoi Ciao amici di Youtube, qui con voi è Shale Boom Oggi ragazzi siamo in un nuovo video Oggi come avete letto dal titolo sono qui in compagnia di mio fratello Cristian Ciao raga Oggi sarà il protagonista di questo video Perché stiamo registrando questa intro dopo aver registrato il video E Cristian ha ricevuto una bella cosa Anzi, bellissima Cristian vuoi dire qualcosa? No, è troppo bello Non ho capito Il calcio è troppo bello Poche parole, va bene Quindi ragazzi subito un bel mi piace, un bel commento Iscrivetevi al canale per questo regalo fatto a Cristian E fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di regalo Io mi invito ad iscrivervi anche al canale Youtube E a scaricare nel primo link in descrizione OneFootball Che è la migliore app del calcio Lì potete sapere tutte le news, tutte le notizie Domenica quando gioco la formazione dell'Italia, Napoli Tutto, tutto, tutto Potete sapere tutto OneFootball gratis in descrizione Primo link Detto questo abbiamo deciso di fare un bel regalo al nostro Cristian Cristian è rimasto davvero felice Guardate tutto il video Io non voglio perdermi in chiacchiere Guardate tutto il video per vedere la reazione di Cristian a questo super regalo Ciao Buongiorno a tutti Come va? Spero tutto bene Io tengo dei capelli super inzevati, brutti e ciuzzusi Niente mi sono appena svegliato Sono le nove del mattino Oggi è 4 ottobre ed è l'anamastico di mio padre Però in questo video non è che festeggere l'anamastico di mio padre Farò un regalo al mio fratello Cristian Perché desiderava da tanto tempo questo tipo di regalo e quindi ho detto vabbè facciamocelo Questo è un po' abbastanza inutile Bella la maglia di Insigne Grande la maglia di Osimelli Chieri in Napoli ha vinto Cristian è andato a scuola quindi io tra poco vado a prendere Ah chi cazzo è? Stavo dicendo dopo scendo che devo andare a prendere il regalo di Cristian E gli facciamo una bella sorpresa quando poi ritornerà da scuola verso le 14 Intanto noi ci prepariamo Chef Franco Aguri Grazie Buono amastico Aguri, aguri come stai? Tutto bene Bensi che vedi una cosa? Eh ma mi ha fatto usciam Oh Franco però dobbiamo far vedere cosa ti ho regalato Eh ma non lo so dove stai Ah bene Mi hai fatto un bel giubbino Bello, bello, bello E cosa hai detto stamattina? Dove andiamo? Per festeggiare? Andiamo a fare colazione Pazzo Il grande chef Franco ci porterà a fare la grande colazione Però vorrei vedere dove sta Mia Mia Ciao Ciao Pazzo che bella giornata che è sciuta Andiamoci a lavare Qua cucchiamo E poi andiamo a fare colazione Taglie Mamma mia Cazzo di freddo Il chato è forte quindi bisogna lavare anche i denti Ecco qua Io sono pronto Maglietta della Nike Jeans Scarpa bianca Ci manca una cosa E io profumo A mio modo sempre 3-0-1 Siamo pronti Andiamo Mentre il chef Franco ha preso una colazione dolce Io l'ho presa salata Ho preso una bella parigina E un bel succo di frutto a pera Facciamo una parigina Molto buona Buona po' voglio Finiamo la colazione Poi dopo Per apprendere Super regalo a Cristiano Ok ragazzi Sono tornato a casa Vi dico un po' le cose che dovrei fare Allora dovrei fermare ovviamente i letti Sì perché sistema anche i letti Sistema un po' la stanza Mi metto a montare il video dove io cucino Che penso già avrete visto E dopo ovviamente devo scendere per prendere il regalo a Cristiano Poi lo aspetteremo ovviamente dopo che esce da scuola Andiamoci da fare Sistemiamo la stanza Facciamo Facciamo le nostre cose Sta da fare Sta da fare Vi vediamo dopo Calma Ci fa pure il lift Vabbè Sono andato a prendere il telefono a Cristiano Sto con la mia Ferrari Comunque Ho preso il regalo Ora andiamo a casa Vi faccio vedere quello che ho in mente Eccoci qua Siamo a casa E finalmente possiamo preparare Quello che avevo pensato di fare Ovviamente ho preso il regalo Eccolo qui E guardate un po' di cosa si tratta Telefono Nuovo telefono iPhone 11 Color verde marino Verde acqua L'ho trovato così L'ho trovato molto carino E ho detto Questo è il telefono giusto E Cristiano me lo stava chiedendo da tanto tempo Enzo mi piace molto l'iPhone 11 Mi piace tantissimo come telefono Mi piace molto l'iPhone Perché Cristiano ha detto che ci piaceva molto l'iPhone? Perché praticamente lui per penso 2-3 mesi Ha avuto questo telefono qui Che dovrebbe essere l'iPhone 6 Questo telefono qui praticamente si è rotto E stava utilizzando il suo telefono vecchio Che era un Huawei P20 Lite Se non sbaglio Però con quel telefono non si trovava E quindi io ho deciso di fare questo regalo qui Però io cosa faccio oggi? Non è che gli do il regalo subito Lo apre e trova l'iPhone 11 Io prendo questo telefono Levo la cover Lo pulisco Come nuovo E lo metto nello scatolo di questo iPhone Questo qui E ci faccio uno scherzetto Quindi lui aprirà questa scatola E troverà l'iPhone vecchio E non troverà questo iPhone qui Cioè l'iPhone 11 Vediamo se lo scherzo riesce Vediamo se la sorpresa riesce bene Ecco il nostro iPhone Ovviamente cerco di non rompere la carta E ragazzi Se riesco ce la metto Ma non credo Ecco qui Apriamo Porca miseria E' stupendo E' bellissimo Wow E' stupendo ragazzi Guardate qui Il mobigivo Ovviamente è uscito anche il filo Penso le cuffie No Non credo Levo la cover al telefono vecchio Lo puliamo un po' Non c'è miglior modo di pulire il telefono con il chat Vedete? Pulito e sistemato Ce lo mettiamo qua dentro Anche se la forma non è questa Però secondo me potrebbe andare bene Perfetto Lo mettiamo nella bustina Sono riuscito anche a metterlo nella busta Regà Sono un cazzo di mostro Ragazzi mi si può ronta a busto Ma sono un mostro Perfetto regà Con questo lo incartiamo Lo mettiamo in una carta regalo Con una bella busta E Cristian si ritroverà Non l'iPhone 11 Ma un iPhone un po' più di merda Ecco Questo qui ovviamente lo metto da parte Lo nascondo E così Cristian non lo vede Cristian esce da scuola Preparo la carta regalo Preparo tutto E vediamo la sua reazione Sto curioso È arrivato Cristian? Sì Ci siamo ci siamo ci siamo Ciao Come stai? Ben Tutto a posto E che stai riprendendo? Che stai riprendendo? Allora è successo una cosa Che è successo? Tutto a posto? Sì È andata bene a scuro? Sì Hai studiato? Sì Cosa hai imparato? Niente Benissimo Era quello che volevo sentire Oh veloci ho fame Eh lo so che hai fame Aspetta Mazza Come stai porto? Che cavolo? Che ci fai con sta vita? Saluta la prima cosa Sei un maleducato Devi salutare Ciao ragazzi Bravissimo Ecco come fa il ciclo Allora noi Dobbiamo Vabbè va a mangiare Vabbè va a mangiare Vabbè va a mangiare Vabbè va a mangiare Non so sapere questo Perché per questo video No ma io non lo so ancora Ah non so niente No Vabbè no andate in cucina Ah vieni vieni Ma guarda qui pronto E poi papà mi ho messo a cucina Aspetta Eh sì ho fatto Mi aspetta un po' Sì ho fatto poco Ehh Christia Chef Frank Sì ho il profumo per te Grazie Grazie Questo è il regalo per Christian Vedi Non lo vado Ma che profumo? Eccolo assolutamente Ok Eeeh Sono sempre gratiti i regali Esatto C'hai C'è Cioè ciao ragazzi c'è anche Ciro che ha fatto questa colpa su? bellissima la profumeria bella profumeria a me ne è buono come profumeria si ma se no la vi c'è frango la mia ma no calma piano che è fragile ok no non ne ho guarda a me guarda a me no non è fai no non è fai è fai è fai è fai ora che lo faremo a favore ci ringraziamo grazie guardate c'è 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 attenzione non lo fai gare oggi sulla tavola se no lo fai gare già si bello tu guardate qui guarda a favore 12 aglio costi troppo assai favore 12 ah ma là le cuffie sono le nuove oh sanno pure le cuffie no ma queste sono le file ah il file il file il file si è è asciuto non è proprio che è pigliato sto cosa lasciato l'abbiamo trovato ce l'abbiamo l'abbiamo trovato per strada abbiamo un amico alla pdc maestro oh accontentati zi vedete ragazzi questa è la scatola dell'iphone 11 e là sarà l'iphone 6 papà mo ce ne andiamo usciamo ma che ho preparato un attimo va bene andiamo attimo ho messo qua eccolo qui eccolo qua eccolo qua ma c'è meglio è proprio rossa è stupendo vieni vieni si ha due di giochi c'è un iphone c'è un iphone 1 dai fons 2 fons 2 fons 2 fons 2 esiste allora questo è il tuo le vale tieni tieni oh mio dio ma ti c'è ci devi credere oh mio dio che volevi tu no non ci credo questo l'ho fatto personalmente io ma è possibile è possibile mamma mia oh ma è grande io non me l'aspettavo così grande quando l'avevo nella scatola bello spettacolo doppia fotocamera mamma mia che colore è verde acqua verde acqua verde marino questo è il vetro mamma mia accendiamo 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 ah ecco qua si è acceso il lingue coreano come ola ola scori verso l'alto mettiamo italiano italiano italica chef franco affaticato con mark zuckerberg oh muo che non bere il cavo oh muo io ne fai salvanito mi metterà passo e poi devi configurare vabbè devi fare tutte le cose 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 vabbè allora da 1 a 10 quanto sei felice mille no è mille è troppo poco mille da quanto tempo desidera allora ma ne vogliamo parlare quando hai fotocamera non c'è no ma come è bellissimo allora vediamo cosa c'è ma io penso sia uscito solo il figlio ecco eccolo qui questo c'è più niente e penso di no biancino 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 come si è città fa me la messa di rosa quasi delle partite belle chiare bella 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 ciao lo schermo è grazie lo schermo è bello quando mettiamolo contro la fotocamera fa paura siamo là siamo là però è nata cosa è nata storia proprio perché esce tutto il libro perché voi devi mettere in posto devo stare ma zucca ragazzi ragazzi il video può finire qua vi ringraziamo per la visione sul canale abbiamo fatto tanti regali la position 5 la cagnolina però questo veramente da desiderare tanto tempo perché ovviamente il telefono è un oggetto che si usa tutti i giorni ed è un oggetto ad oggi nel 2021 veramente importante considerazione le emozioni finali è bellissimo stupendo modemoviti posso dire una cosa allora siccome io a te ti ho fatto tanti legati e non ne volevamo questo è un altro regalo che ti ho fatto bene fatto un giubbino a me a piazza italia giusto prezzo il prossimo regalo me lo faccio da subito facciamo il video chef franco si regalano sono da subito e poi che non si vede l'anima in un regalo con grado vabbè che giubbino a così bene quindi ragazzi il video finisce qua io spero che ti potrai divertire la circolazione è il colore stupevo a pelare è bello e qua dietro c'è pure il petro e poi dietro è vedo poi a te devi mettere pellicola vetro vabbè come se lo facciamo con una video finisce qua grazie mille a tutti per la visione lasciate un bel like un bel commento iscrivetevi al canale un bacione faccio sempre forza io faccio parte team dell'apple esatto team iphone io e franco siamo samsung siamo boomer samsung ciao ciao ragazzi